Il conto di Pasolano va di offenza, prima sua casa, il conto, un primo, un scudetto fra Giulio Pasano e Benedetto. Diamo lettura delle provazioni di quest'anno di CERTA in campo. Venite a Benedetto, numero 1 Valentino di Pasano, numero 2 Esteban, Gloria, numero 6 Andrea Sassuolo, con il numero 8 Giulio Sassuolo, numero 10 Tadessio Portone, con il numero 15 Vicente Mancini, con il 18 Antonio Piomento, con il 19 Antonio De Luca, numero 20 Manuel Schittani, numero 22 Marco Tastello, con il numero 8 Giulio Sassuolo, numero 21 Torbeni Sassuolo, numero 7 che è il Vanto Mancini, allevatole del Vespa 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 del Vespa. E' la prima parte del Vespa 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 Con il numero 8, Federico Berlini, con il numero 21, l'Agentino Pagano, con il numero 49, Francesco Rubino, con il numero 26, Paolo Cosacchini, il numero 2, Paolo Morino, il numero 7, Danilo Angola, con il numero 3, Paolo Morino, con il numero 4, Paolo Morino, con il numero 4, Paolo Morino, con il numero 49, Claudio Messina, con il numero 4, Paolo Morino, 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 con il numero Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Così Danilo buona 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 Così Così Danilo buona Così Così Danilo buona 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 Così 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 buona Così Danilo buona Così Così Danilo buona Così 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti